benvenuti a questa prima parte del corso sulla shell fish nella quale vogliamo passare in rassegna le caratteristiche principali e soprattutto l'installazione di questa shell allora partiamo un po dalle basi quindi fish che in inglese significa pesce in sé la parola significa pesce e potete già vedere anche qui nello sfondo del video in questo schermo disegnato sul sito principale di fish vedete il simbolo in effetti di un pesce stilizzato nel terminale quindi in effetti fish è un termine inglese che significa pesce ma in realtà come spesso accade in questi progetti informatici si sceglie in modo curato diciamo la sigla del proprio progetto che spesso e volentieri significa già qualcosa la sigla e la sigla stessa significa in questo caso friendly interactive shell vedete la f i e sh di fish quindi acronimo fish per una shell che tradotto più o meno fa shell interattiva amichevole ecco diciamo tradotto così in modo artigianale da me è un progetto dunque che è partito nel 2005 quindi diciamo per l'ambito delle shell è un progetto giovane in effetti è tuttora in sviluppo molto rapido questo progetto non è tutt'altro che fermo e dal 2005 sembra tanto sembra tanto quasi dieci anni fa sembra tanto ma è appunto è recente rispetto ad altre shell perché se pensiamo che le shell più note come quella installata per difetto su sulla maggior parte delle distribuzioni linus che è bash è partito addirittura come progetto nel 1989 zsh un anno dopo nel 90 e dash che è quella più vicina nel tempo che io abbia trovato almeno nel 2002 comunque io non ho trovato shell progetti diciamo così importanti significativi di shell più recenti del 2005 quindi diciamo che la più giovane fish ecco forse anche per questo per questa sua giovane età e per il fatto appunto che un progetto partito su idee nuove del secolo nuovo diciamo pure è una shell un po diversa dalle altre si distingue per certe sue caratteristiche con un suo linguaggio di programmazione che è più vicino ad altri linguaggi tipo python o altri linguaggi di questo tipo intendo per linguaggi di programmazione quelli considerati i veri linguaggi di programmazione perché le shell sempre considerate un po non so come dire sembrerebbe che sono considerate un po dei linguaggi di serie b rispetto ai veri linguaggi di programmazione tuttavia anche le shell hanno un loro dizionario di comandi che permette di creare dei programmi di utilità per il proprio sistema operativo quindi chiamiamolo oppure per quello che sono sono dei linguaggi di programmazione paragonabili in parte ad altri e quindi tornando al nostro al nostro tema la shell fish è un po diversa appunto si assomiglia per certi aspetti per alcuni suoi comandi per la sua sintassi e più ad altri linguaggi propriamente detti di programmazione e forse anche proprio per questo non è una delle degli avvisi che si incontrano per primi sul nella documentazione di shell e che shell non è direttamente compatibile con altre shell ovvero quanto sviluppato poniamo per bash va adattato a fish se vogliamo usarlo nell'ambito di una sessione di shell fish e viceversa quindi se non scriviamo uno script per fish dobbiamo adattarlo non dico neanche tradurlo perché non è che cambia dal giorno alla notte intendiamoci fish non è direttamente compatibile con altre shell perché è un dato di fatto ma questo non significa che sia completamente diversa e tutta un'altra cosa rispetto alle altre shell quindi più che tradurlo io preferisco dire adattato quindi se io scrivo qualcosa in fish devo adattarlo per usarlo in bash e viceversa o è così per le altre shell ecco questo però può sembrare dico proprio all'inizio del nostro corso può sembrare già un punto bloccante per qualcuno dire accidenti tutto tutto il materiale che ho in bash o tutto ciò che trovo in rete su bash che sono tornellate di cose non posso usarle in fish ecco non è proprio vero vanno adattati qua e là e non è neanche estremamente difficile adattare uno script verso un altro comunque appunto questo non deve spaventare ecco non deve essere un punto che spaventa subito che ci spaventi ecco perché stiamo comunque parlando di una shell che usa gli stessi comandi linux delle altre appunto dico non è che stiamo parlando di una cosa completamente diversa ha delle sue particolarità come altre shell hanno le loro ma appunto stiamo parlando di alcuni comandi specifici di fish con una loro impostazione sintattica con loro proprio nomenclatura che non hanno analogie nelle altre shell e viceversa quindi altre shell hanno certe simbologie di comandi che non hanno un corrispondente diretto in fish ecco tutto qui niente di spaventevole ma da sapere giusto che se scrivo qualcosa in fish non posso usarlo direttamente in altre shell questo invece è possibile almeno in un certo insieme un certo gruppo di altre shell è possibile interscambiare il codice praticamente senza toccare nulla ecco più o meno non ho fatto la prova pratica è probabilmente qualcosina qua e la andrà regolato anche lì però sembrerebbe più più trasparente il passaggio del codice da una shell a un'altra per quanto riguarda altre shell che non tra fish e le altre shell però come vedremo più in là nel corso dove ho previsto un video apposta dove io ho tradotto proprio per verificare questo esercizio ho tradotto adattato ecco degli script che ho scritto in bash inizialmente in fish e praticamente ho fatto nessuna fatica a farlo ecco quindi mia testimonianza personale è vero che fish non è direttamente compatibile con le altre shell ma è altrettanto vero che non è per nulla difficoltoso tradurre adattare modificare uno script originale di un'altra shell per farlo funzionare in fish e viceversa ecco dunque fish è costruita per favorire l'uso interattivo quindi questo è il suo obiettivo principale e d'altra parte lo si capisce anche dal nome come dico qui perché il nome abbiamo detto include la parola interactive quindi più più chiaro di così quindi shell interattiva amichevole e quindi è proprio costruita per permettere praticamente tutte le operazioni interattive questo non vieta come dico qui ovviamente di creare degli script come lo si fa con qualsiasi altra shell quindi noi possiamo benissimo creare degli script fish che vengono eseguiti come per gli altri script quindi si possono eseguire in blocco più comandi opportunamente messi assieme in questi script andiamo avanti quindi fish fornisce un gruppo di comandi specifici suoi ecco è un po' come per tutte le shell c'è come dire un nucleo un kernel per dirlo in ambito linux un nucleo di comandi suoi ecco ovviamente c'è 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 un progetto fish questo progetto partorisce un risultato questo risultato è un eseguibile fish che ha un programma eseguibile che si chiama fish che ha mette a disposizione degli utilizzatori un certo dizionario di comandi suoi ecco questi comandi sono però non tantissimi ecco sono in numero limitato e questo c'è un motivo per questo perché uno degli obiettivi per scelta progettuale di fish di chi sta gestendo il progetto fish è quello di sfruttare le funzionalità di altri comandi ovvero comandi linux del kernel già esistenti laddove appunto già esistono senza reinventare la ruota cosa intendo con questo che fish tende appunto a non replicare con comandi suoi delle operazioni delle attività che si possono eseguire con comandi già esistenti appunto quindi ecco secondo me è una buona scelta quindi di non duplicare inutilmente le funzionalità che già esistono ma meglio sfruttare quelle del sistema che esistono già questo è un'ottima scelta progettuale secondo me quindi fish fornisce per così dire il minimo indispensabile dei comandi che senza i quali appunto non si potrebbe usare in modo così confortevole la shell medesima ma al di là di questo se c'è bisogno di far qualcosa che ne so su stringhe di testo di caratteri sui file operazioni sulle cartelle così si sfruttano i comandi che già esistono che già il kernel linux ci fornisce questa è una buona idea è una buona impostazione secondo me ecco poi detto un po così una panoramica sulle caratteristiche principali del perché il per come come è nato eccetera eccetera ai confronti con altre shell passiamo a una parte concreta dell'installazione ecco stiamo facendo un corso su questa shell fish ma se volete provare durante questo corso a fare qualche comando ed eseguire e provare qualche esempio che vi mostrerò durante questi video è evidente che dovete avere a disposizione lo strumento ovvero la shell in quanto tale allora fish è non è estranea ai repository di ubuntu in effetti è presente ma non è installata per difetto al contrario di altre shell che quando installate un sistema sto parlando specificatamente di ubuntu in questo caso perché uso quello quando installate ubuntu anche senza accorgervene immagino se non usate spesso il terminale o mai non ve ne accorgereste nemmeno comunque avete più shell installate che ognuna al suo compito nel nell'ambito del sistema operativo fish non è fra questo non ancora fra queste però esiste nei repository di ubuntu il problema qual è come per tutti i pacchetti ufficiali presenti nei repository ufficiali di una versione di ubuntu soprattutto anche per una LTS ovvero a lungo termine di supporto come la 1404 che sto usando in questo momento cosa succede? succede che a dipendenza della vivacità del progetto che crea che sfocia in un pacchetto di installazione a dipendenza della vivacità di quanto cambia velocemente il software del quale abbiamo il nostro pacchetto nei repository ufficiali in breve più o meno breve tempo la versione disponibile diventa obsoleta e così succede con fish perché ho detto poco pochi istanti fa che fish è un progetto molto vivace quasi tutti i giorni ci sono delle versioni nuove di fish nella versione più estrema più più nuova ecco quindi è molto molto seguito molto vivace e quindi la versione presente nei repository di ubuntu si è invecchiata velocemente già ora è vecchia rispetto a quella che si può installare da dove? da un suo archivio ppa naturalmente fish ha un paio di archivi ppa che vediamo fra un attimo ecco e devo dire che le nuove funzionalità presenti nelle versioni più recenti di fish mi hanno convinto comunque a rinunciare ad usare il pacchetto la versione ufficiale nei repository di ubuntu e passare appunto a un archivio ppa dove trovo la versione più recente di fish le versioni più recenti in sviluppo come sempre portano un warning ovvero un avviso che potrebbe esserci qualche instabilità essendo appunto una compilazione degli sviluppatori che ci stanno mettendo le mani tutti i giorni finora nel mio caso non si è mai verificato io ho sempre usato la versione ultima quella diciamo compilata quasi tutti i giorni eppure non ho mai avuto nessuna instabilità finora e dato che appunto è sufficientemente stabile comunque l'uso di fish pur essendo sempre così rinnovata giorno per giorno preferisco sempre usare l'ultima versione della share per avere da una parte le ultime funzionalità ma anche vista la recente esperienza con il problema del buco di sicurezza in bash anche avere anche la nostra shell fish sempre aggiornata con eventualmente delle contromisure qualora fossero necessarie anche per lei quindi non avere un pacchetto vecchio dei repository ma eventualmente aggiornato caso mai ci siano dei buchi di sicurezza anche in fish ecco un po' per questi motivi io ho optato per avere sul mio sistema installata sempre l'ultima versione per avere anche voi l'ultima versione di fish e quindi poter seguire questo corso più o meno con la stessa versione potete usare appunto aggiungere al vostro sistema questo repository fish shell nightly master e installare fish ecco con questi consueti tre comandi da terminale quindi copia e incolla questi tre comandi il primo aggiunge il repository di fish il secondo aggiorna il vostro sistema in modo che riconosca il nuovo repository aggiunto il terzo comando vi installa appunto fish install fish ecco è una nota appunto in questa serie di video do per acquisito che se volete seguire e applicare gli esempi e usare quanto vi mostro in una sessione di fish do per acquisito che anche voi semmai se volete fare le stesse cose usiate come me la versione più recente possibile di fish nel momento che sto registrando i video insomma ecco oggi 18 novembre 2014 ho una certa determinata versione di fish che viene da questo repository ecco aggiornato un paio di giorni fa ecco quindi ok vi ho informati anche su questo e eventualmente in alternativa se tra virgolette scusate non siete come dire così coraggiosi da voler usare sempre proprio l'ultimissima versione c'è un repository come dire più calmo più tranquillo un po' più stabile che è un'alternativa a quello precedente nightly master questo qui si chiama release 2 fish è il release 2 perché in questo momento la release la versione di fish è una 2. qualcosa quindi siamo nella versione principale 2.xxx ecco questo quest'altro repository pp è un po' più tranquillo ovvero arrivano meno rapidamente nuove versioni di fish quindi chi vuole applicare una via di mezzo può benissimo farlo adottando questo repository al posto di questo tuttavia appunto il mio avviso resta valido io uso una versione ultima da quest'altro repository non da questo ecco per completezza di informazione volevo darvi tutte le alternative una volta installato possiamo a breve partire ad usare questa shell questa nuova shell che stiamo per scoprire assieme che si chiama appunto fish allora un po' di vediamo un po' un po' di informazioni a margine fra le quali una è l'estensione dei file degli script benché abbia detto che fish è una shell orientata all'interattività noi vogliamo comunque raggiungere anche l'obiettivo di crearci degli script ovvero dei programmini di utilità per noi per il nostro sistema per facilitarci i nostri compiti quotidiani sul nostro sistema e questo lo si fa salvando in un file appunto l'insieme dei comandi dello script questo file appunto normalmente porta un'estensione che lo fa distinguere dagli altri file anche se a dire il velo in rete si dice che sarebbe buona norma per i file di script delle shell non mettere nessuna estensione quindi lasciare il file senza punto qualcosa ecco tuttavia diciamo per le nostre esigenze di utenti comuni è molto pratico avere l'estensione la quale estensione è per gli script bash tradizionalmente è punto sh quindi punto shell ecco per gli script bash quindi punto sh per i script fish noi adotteremo quella che gli sviluppatori stessi usano per i file di lavoro di fish che ho notato che loro proprio chiamano punto fish i loro script creati direttamente da loro quindi perché non adottare quello non inventarne un altro ovviamente usiamo punto fish così distinguiamo sul nostro sistema gli script che sono adatti ad essere usati con il motore bash da quelli che sono adatti ad essere eseguiti con il motore fish quindi d'ora in avanti quando creiamo degli script per questa shell li chiamiamo nome punto fish ecco i vantaggi sono che in questo modo come ho appena detto possiamo distinguere gli script senza neanche aprirli per vederne il codice distinguere al volo direttamente nel file manager quali sono gli script per bash quali per fish o per altre shell inoltre possiamo anche sfruttare l'identificazione automatica della sintassi che è quel meccanismo che colora il codice ecco meglio che vi mostri che cosa intendo dunque io ho preparato per il corso alcuni script fish e ne apro uno a caso così capite cosa voglio dire con identificazione automatica della sintassi ecco aperto in gedit vedete che questo script uno degli esercizi che ho fatto insomma questo script è per la shell fish lo si vede dalla prima riga qui usr bin fish però vedete anche che gedit automaticamente mi ha colorato la sintassi quindi le variabili hanno il loro colore le stringhe di test hanno il loro colore i comandi hanno il loro colore eccetera eccetera questo è dovuto all'estensione del nome del file quindi questo file si chiama vedete qua in cima test.fish è proprio questo .fish che permette all'editor gedit di riconoscere che è un file per la shell fish e di usare la categoria diciamo l'evidenziazione della sintassi fish lo vedete qui nella tendina fra tutti i linguaggi che riconosce gedit c'è anche fish ma vediamo che non ci sarà di default ma l'ho aggiunto io comunque vedete che c'è fish e lui lo colora di conseguenza ecco questo era appunto un esempio per farvi vedere sott'occhio cosa intendo con l'evidenziazione della sintassi non ci fosse questa distinzione dicessi che questo è testo semplice vedete tutto nero non si distinguono i comandi è meno pratico quando sviluppate un vostro script averlo tutto colorato uniformemente è molto più pratico avere la distinzione fra i comandi così vedete se li avete scritti anche giusti se si colora giusto se non si colora no eccetera eccetera ecco quindi identificazione automatica della sintassi è possibile anche con fish basta che usate l'estensione nei nomi dei file ecco il vantaggio di mettere l'estensione per noi però ecco fish non essendo installata per difetto in un sistema ubuntu non ha non si porta presso nemmeno diciamo questi file che permettono di colorare la sintassi perché dietro questi meccanismi ci sono dei file che descrivono il tal comando che deve essere colorato nel tal modo ecco e a questo proposito ci ho pensato io ecco ci ho pensato io e ho creato naturalmente partendo dagli esempi esistenti per bash non è che ho creato da zero queste cose perché sono anche un po' un po' criptiche volte questi questi file che descrivono la sintassi da colorare ho creato due file che funzionano con gedit quello che vedete qui e anche con nano l'editor di testo da terminale quindi ho creato già che dovevo fare il lavoro l'ho fatto in doppio per questi due tipici editor presenti su ubuntu e appunto che sfruttano entrambi l'estensione .fish per colorare la sintassi quindi se anche voi adottate questo sistema impostate questi due file che ho creato io vi troverete anche voi con la sintassi colorata anche per fish non solo per bash o per altre cose sia in nano se preferite usare il terminale per editare sia in gedit allora prima di tutto nella descrizione del video come dico qui vi lascio ovviamente i due link per i file per scaricarli ve li lascio ovviamente così andate nel commento di questo video vi scaricate i due file se vi interessano fish.lang è quello che serve a gedit per colorare la sintassi e fish.nano rc è quello che serve all'editor nano come si attiva come si attivano questi due file perché li scaricate poi dove li mettete per farli riconoscere a gedit rispettivamente a nano ok lì si mettono in determinate cartelle predefinite allora la colorazione in nano la si attiva modificando da una parte questo file che è nelle cartelle di sistema quindi dovete aprirlo come amministratore quindi sudo eccetera eccetera ma questo lo sapete e aggiungete il percorso al file fish.nano rc in fondo a questo file e il file stesso fish.nano rc lo mettete in questa cartella usr.share.nano che l'ho già aperta qua dove vedete vedete che ci sono un bel gruppo di file che si chiamano .nano rc ecco .nano rc che sono tutti i linguaggi di programmazione che nano riconosce e colora già predefiniti quando voi installate il vostro sistema ubuntu vedete fortran css ok java nano rc ecco voi aprite un codice sorgente in c ve lo colore in java ve lo colore eccetera eccetera e in più c'è il mio file io l'ho già messo ovviamente nel mio sistema vedete fish.nano rc è quello che ho creato io lo mettete nella stessa cartella anche qui è una cartella di sistema quindi dovete aprirla con diritti di amministratore per poterci copiare questo file aggiuntivo fish.nano rc una volta copiato questo file in questa cartella appunto andate ad aprire questo file e aggiungete il percorso quindi usr share nano slash nano rc fish.nano rc ve lo posso mostrare quindi finalmente dimostro il terminale vedete qui che bello tra l'altro fish come mi si presenta tutte le volte che apro un terminale ci ho messo un benvenuto personalizzato vedete il pescetto di fish carino e voilà un piccolo messaggio non di parte per carità fish la shell migliore del mondo ma questo è un dettaglio che vedremo fra un attimo potrete personalizzare anche voi questo messaggio di benvenuto tutte le volte che aprite una sessione di terminale con fish questa è una delle opzioni che vi mette a disposizione fish dunque io però vi volevo mostrare questo file etc-nano-rc quindi se noi lo apriamo etc-nano-rc adesso naturalmente l'ho aperto senza diritti senza i permessi di scrittura vedete qui permessi di scrittura mancati ma è solo per mostrarvi il file quindi il file ha già un suo contenuto dove si connette diciamo dove fa riconoscere tra nano tutti gli altri file dei linguaggi vari e in fondo come dico qui aggiungere il percorso al file fish nano-rc quindi andiamo in fondo questo file e qui tutti i vari linguaggi e in fondo ci ho aggiunto anche il mio ecco normalmente finisce con l'xml io ci ho aggiunto fish shell script include con questa sintassi basta che copiate un paragraffino esistente per un altro linguaggio e lo adattate al vostro quindi usr share nano fish nano-rc che è poi questo e poi salvate siete a posto nano della prossima volta che lo aprite che aprite uno script fish ve lo colorerà un po' come vedete qui la colorazione di questo file medesimo ve lo colorerà con questi colori questa paletta di colori voilà come attivarlo in gedit invece questo era per nano come attivarlo in gedit gedit è tra i due volte più semplice nel senso che non dovete modificare editare nessun file ma semplicemente se non esiste creare questa cartella questo percorso quindi nella vostra home nella vostra home cartella nascosta punto local lo vedete qui sono già posizionato punto local share gtk sourceview righetta 3.0 che è questa qui la cartella language specs eh language righetta specs e copiate il file che avrete scaricato dalla descrizione di questo video fish lang e lo copiate dentro lo vedete qui fish lang eccolo qua eh ecco nota se la cartera non esiste crearla naturalmente se non esiste qualcosa in questo percorso createlo perché c'è proprio necessità di quel percorso una volta inserito il file qui la prossima volta che aprite l'editor g-edit con uno script fish inizierà a colorarlo come l'avete visto un attimo fa adesso non è più aperto no non ce l'ho aperto ecco come l'avete visto prima insomma un attimo fa ecco questa qui diciamo che con fish in quanto tale c'entra poco ma è un aiuto poi nell'uso successivo di fish è un comfort in più nell'uso di fish mentre sviluppate i vostri script in un editor che sia o nano o g-edit così per pareggiare diciamo le funzionalità il comfort di utilizzo di bash ho creato questi due file anche per fish e voilà un po' un po' Grazie a tutti.